Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballJersey. Io sono Stefano e oggi vi presento la prima maglia del Liverpool per la stagione 21-22 nella versione fan o stadium, quella cioè dedicata ai tifosi. La maglia di casa del Liverpool per la stagione 21-22 è ispirata ai giorni del leggendario boss Bill Shankly, agli anni 60 e alle radici della famosa maglia rossa. L'iconico allenatore voleva che il Liverpool avesse un vantaggio psicologico sui suoi avversari attraverso la maglia. Questa è stata l'ispirazione per la nuovissima striscia, che ha visto la Nike lanciare il rosso sul rosso per creare una maglia potente e distintiva. Per continuare il tema retro, lo stema del Liverpool e lo swoosh Nike sono entrambi di color fossile. La maglietta, ancora una volta Nike, è tradizionalmente realizzata in rosso, con un colletto arancione fluo e strisce sulle maniche dello stesso colore. Anche sulla maglia sono presenti strisce arancioni poste in diagonale. È realizzata in tessuto traspirante per mantenere la pelle asciutta. Il tessuto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 75%. La maglia è veramente molto bella. Nella mia classifica prende 4 stelle di questo colore cangiante, fatta veramente molto bene. Peraltro vi ricordo che in descrizione trovate i riferimenti per poterla acquistare. È stata una grandissima sorpresa. Ora, prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità, se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan o Stadium. Grazie a tutti i nostri amici.